Ciao ragazzi e bentornati al nostro canale preferito gioca come giochi per bambini Oggi vi parlo di Jelly Belly, siiii! Allora sicuramente le conoscerete tutte le caramelline a forma di fagiolino Di mille colori perché di tanti gusti diversi Vedete che qui ho la super macchina Jelly Belly Mi posso veramente sbizzarrire e mangiarne quanti ne voglio Ma mi fermerò perché io so controllarmi Ma quello che voglio farvi vedere è questo Allora non so se avete capito che cos'è È un profumatore d'ambiente che potrebbe essere messo in macchina al posto Sapete dell'arbre magique no? È uguale È proprio la funzione quella, Air Freshener Di Jelly Belly però, quindi un super fagiolone nella vostra macchina Se adorate il Jelly Belly ovviamente E come avete visto sulla confezione davanti c'è scritto Very Cherry cioè molto alla ciliegia Il che presuppone il fatto che sia super super profumato alla ciliegia Questo lo scopriamo subito perché ovviamente lo apriamo e sentiamo l'odore Eccolo qua, lo tiriamo fuori Ragazzi come l'ho tirato fuori dalla scatola confezione di plastica Lo studio si è veramente Non so come dire ma Un odore di ciliegia Permane nello studio Le mie dita sono completamente alla ciliegia Penso che ci sia un odore talmente forte che è quasi insostenibile Quindi forse non ve lo consiglio per la macchina Visto che è un ambiente chiuso e per lo più piccolino O comunque insomma non è proprio adattissimo Magari in casa potete metterlo da una parte ogni tanto Tirarlo fuori se volete dare un tocco di ciliegia alla casa All'aria un po' così però per lo più teniamolo anche chiuso perché è davvero forte Ve lo garantisco Un fagiolone alla ciliegia molto molto forte Come vedete è molto morbido Però davvero vi assicuro che c'è un profumo Incredibilmente forte Cioè veramente le mie mani sono Non so sono totalmente sanno Totalmente di ciliegia Hanno preso il gusto proprio in modo fortissimo Quindi anche se lo toccate sulle mani vi rimane questo odore Che chiaramente io adoro il profumo alla ciliegia Però è veramente forte Se ve lo dico io ragazzi è veramente forte Quindi per la macchina forse non troppo consigliato Per ambienti grandi Ecco meglio meglio così Lo metto via prima che le mie cari colleghe muoiano stecchite Entrando nello studio di registrazione E io con questo Jelly Belly super fagiolone enorme Il più grosso fagiolone del mondo Vi saluto Vi do appuntamento alla prossima Don't miss it Non mancate neanche a un appuntamento Mi raccomando con tutte le nostre novità